Benvenuti ragazzi nella seconda parte del settimo episodio, io sono Detorex96 e insieme a me c'è... Grazie a lui! Ovvio! Ok, siamo scesi di qualche quadretto e ci siamo scontrati con questa altra grotta Dov'è? Vedo del... credo sia dell'oro, quindi andiamoci Ci vado io, abbiamo capito, levati dalle valle Ok, scavo, scavo, scavo Mi faccio torce Faccio pure dell'iron Tu vai a prendere l'oro, io da prendere l'iron Eh, vai a prendere l'iron È di qua, eh Niente quanto, guarda Ehm, che le trovo boobidubi Ha ha Ottimi riflessi Mamma mia Comunque... Eh, non la sotto cos'è? Ametista? Dei che poi cerciamo le torce tricolori Oh, non frè Eh Oh, ma che è? Oh, ma c'è? No, sto scherzando Eh, ero un tormentone di un vecchio film Se non lo sapete, siete delle meme Eh... Sì, è aperto Allora Vai ora a combattere No, 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 no Scendiamo di qui No, guarda a destra Mi sembra di vedere qualcosa di profondo Beccati questa C'è Boh Meglio del latte grana rolo Questo esplode ancora più fuori Se scende Destro scende Cosa che cazzo che è qua sotto? Non si vede niente Mi vuoto Oh, attento, attento Perché è una cosa Muy delicata Purca Ma sotto che c'è? Qualcosa dice che non voglio sapere Piano piano Mi consente Eh, vado a prendere Pol gold E io mi occupo dei nemici C'è un... Proprio un muro d'acqua dietro questa cosa Ovviamente tu aprirai No, non parlavo di questa cavolata Ora ti faccio vedere Hai torce? Mmm... Un po' Cosa c'è qua dietro? Ah, bambagno Silt the melmo A proposito di melmo Mother of slime Non è la mother of god? No Wow, 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 wow Che è sta cosa? Andiamo un botto Lancia di copertura Almeno un po' di notte 19, aiuto Pure la trappola sottomarina Meno male Che cos'è che mi leva vita? Oh, oh No Perché mi ha dato così poca vita la pozione? Non è che mi ha usato... Scheletro di merda Scheletro di merda Scheletro di merda La morte non sarà in mano Funziona, spada Funziona Ok, torna giù Una parola Se magari pure ti sbrighi No, 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 no Inizia Un viaggio Con una fine Il verme che in volo cambia strada Sì, comunque Mi sa che Prima di arrivare lì Morirò Non so perché Ho questa brutta sensazione E invece sei morto tu Ha ha Perché io ero a cadere Sulla stessa trappola due volte Sì, ma poi Mi è caduto Cioè, non so se L'avete visto bene Potete tornare indietro comodamente Se non siete così pigli Da non mettere Cioè, da non riuscire A mettere Diciamo, diciamo, tornare con la scena Quando me Che è venuto dal cielo Quello scheletro Trolleggiante Proprio Una melma Questo putridume Che è caduto da so Bella Sorry Compiamo giù Facciamo un backup E torniamo a casa No E questa a cui giochiamo È la 1.1 Di versione Sì Perché Non vogliamo aggiornare Per un conghietto Che Scoregge e vola E per Una traduzione in italiano Fatta malissimo Quindi A noi piace questa versione Molti la critica Insomma È molto bella Come versi Uh uh Una tua lapide Ora la prendo E la porto a casa L'oggetto più raro del gioco Lapide di Glacero Unico Ce ne sono 4-5 Nella Oh mamma mia Ok Avrò qualche fungo Nell'inventario Che ha rotto Proprio le palle Dancing Slime Pare che siamo andati a sinistra No Per me siamo andati Di qui Che cacchio è Che mi lavavita Oh mamma mia Eh Si chiama Piragna 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 però Cioè Non si vede Ok Sinistra o destra C'è una bomba Io ho trovato qualcosa Usu uhuhu La 별 è interessante Il mio Star fighter È blu perché maybe In grado di Piscicarsi ai muri Piccola dimostrazione E' il eccola mentre se lo faccio con questo rimbalza ora devo aver sprecato alcuni starfighter possiamo proseguire a proposito se tu prendi i miei materiali vediamo io come posso creare di poco colore notare laura mascolina di questa torcia bar gay e prendilo dannato si prendilo mamma mia va bene ok questo è stato un pay una forma ambigua questa grotta lasciamo stare comunque direi che anche la seconda parte è finita ci vedremo tra poco tempo perché abbiamo promesso di fare un po più video in questo periodo però ci sono stati diciamo degli impegni quindi sì diciamo che la seconda parte finisce qui ciao da Torex e da Rachel Wing